e io arrivo quella sera e mi ha parlato di perché sei qua e quindi è tutto tutto piano piano sarei un po' studiati da lontano e mi sono avvicinata e quindi è colpa sua se io sono giù a Roma se faccio qualcosa l'altro Carabella aveva un metodo grandissimo per la selezione del candidato portavoce del sindaco senza dire niente ai tuoi chi è che vuole candidarsi al sindaco? mettendosi d'accordo che il primo che avrebbe alzato la parola sarebbe distrutto allora abbiamo fatto un ammiglio di questo tipo che hanno delle persone mai viste? sono asciutte e facciamo la domanda chi è che si vuole candidarsi al sindaco? non sono più venuti dopo quella volta che ero candidato al sindaco non sono più fatti vedere però a volte, a volte come dire il fatto di essere da tanti anni come me che dal 2005 che faccio l'attivista e dal 2006 non sempre è sinonimo di garanzia quindi bisogna essere sempre digili anche a quelli storici chiamiamoli così